Sulla conferenza che dire, è una grandissima opportunità per il territorio del Pollino quella di poter ospitare una conferenza che avrà riflessi di carattere internazionale sia per la presenza del Presidente mondiale della rete dei Geoparchi Unesco ma soprattutto perché c'è una articolata varietà di interventi, di presenze da ogni parte d'Italia e devo dire anche da diverse parti d'Europa. Noi qualche mese fa abbiamo avuto il grande riconoscimento e l'onore di essere inseriti nella rete Unesco e abbiamo subito presentato questa candidatura di poter ospitare la prima conferenza nazionale dei Geoparchi dopo il riconoscimento Unesco. Ci è stata riconosciuta e quindi noi stiamo allestendo al meglio un programma che è di grandissimo valore perché saranno tre giorni intensi, ripeto, con professionalità provenienti da ogni parte coinvolti il mondo accademico, le nostre università, il mondo istituzionale, le regioni, i comuni c'è il sottosegretario ai beni culturali, l'onorevole Bianchi sarà una conferenza dove per tre giorni i grandi luoghi che sono stati quelli simbolicamente più rappresentativi per avere il riconoscimento saranno visitati la grotta del Romito a Papasidero, piuttosto le gole del Raganello a Civite poi un viaggio in Basilicata, le timbe di Pietrasasso nella zona di Terranova del Pollino di San Costantino Albanese ma poi, ripeto, un itinerario che da mormanno poi ci porterà a Senise quindi saranno tre giorni che faranno parlare in Italia ancora una volta del territorio del Pollino e lo faremo, ripeto, da un punto di vista, da un'angolazione che è quella a noi più consona far vedere le straordinarie bellezze di questo territorio geocity straordinari ma anche far vedere i nostri paesi, le nostre genti quelli che animano questo straordinario territorio del Pollino grazie a tutti